Musica 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 L'essenza di andare in moto per me è libertà, un gusto che provo soltanto guidando in pista. Musica Il mio motto è Ego Free, che è un qualcosa che mi è venuto fuori nel 2016. Rispecchia veramente tanto il mio modo di essere e il mio modo di pensare. Go Free per me significa vivere spensierati, essere liberi. Musica La Panigale V2 penso rientri molto in questa definizione. È una moto divertente, molto stabile, molto sincera. Musica E penso che ti permetta molto di andare forte. Rientra molto nella descrizione di Go Free. Musica Musica Mi chiamo Francesco Bagnaia, pilota del team MotoGP Ducati Prama. Musica 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 Musica